1111 gli angeli dicono che dio dice che darà un messaggio da los angeles la tua vita fiorirà meravigliosamente per mia grazia e sarai condotto alla tua crescita ottimistica oggi dio vuole metterti in guardia contro una persona che parla alle tue spalle se credi in dio sto iniettando forza ed energia nel tuo corpo mente e spirito sto cambiando le cose al tuo fianco per portarti dove dovresti essere so esattamente dove ti trovi e ho un ottimo piano per te la tua vita è affidata alle mie mani ti darò doppia porzione di onori e di favori sto rispondendo a tutte le tue preghiere e ti porterò la liberazione dai tuoi problemi attaccamenti mondani dio ti sta dicendo oggi che qualcuno non può più stare lontano da te manchi a qualcuno in questo momento gli manca stare vicino a te vogliono solo tornare a casa e venire da te qualunque sia il lavoro o la situazione lasceranno tutto e verranno da te perché non c'è nessuno che possa capirli come fai a capirli dio dice che stai entrando in un nuovo inizio con te stesso dove crescerà l'amore la comprensione sarà nella tua relazione scrivi e credi buongiorno dio sono grato per il nuovo giorno sono grato per la tua compassione e misericordia grande è la tua fedeltà e il tuo amore indissolubile dio ti ha dato questo giorno riempimi del tuo spirito e dammi energia per il tuo lavoro dammi la forza di navigare oggi in pace provvederai a tutti i miei bisogni oggi per svolgere il lavoro che mi hai dato dichiaro la tua sovranità su ogni ambito della mia vita le tue enormi aspettative saranno presto ripagate con qualcosa che non avresti mai immaginato ci sono molte avventure belle e sorprendenti in serbo per te nella tua vita perché il tuo angelo ha cambiato il copione della tua vita scrivi e credi nei tuoi angeli non perdere tempo a pensare a cose che non sono sotto il tuo controllo preparati ad affrontare la situazione punto il modo in cui mostri entusiasmo in lui ci sarà qualche preoccupazione nel non ottenere i risultati risultati nel tuo lavoro ma si paziente col tempo andrà tutto bene ho una benedizione con sopra il tuo nome non arrenderti prima che arrivi la benedizione riposa stasera il tuo dio spezzerà tutte le maledizioni della tua vita domani sarà un nuovo giorno e dio ti darà tutto ricomincia e confida nella magia dell'inizio dio vuole aiutarti a creare un nuovo capitolo e a scrivere la tua meravigliosa storia oggi è l'inizio di ciò che desideri benedizioni inaspettate ti arrivano all'improvviso incontrerai la persona giusta all'improvviso la tua salute migliorerà è tempo per te di attrarre continuamente la prosperità di lasciare che le cose fluiscano dio sta cambiando la tua storia il denaro entrerà nel tuo conto come l'acqua del fiume e lui o lei saranno emotivamente e finanziariamente stabili afferma se stai attirando energia positiva e miracoli mentre leggi questo scrivi 4444 caro universo sono pronto a ricevere ricchezza finanziaria e stabilità emotiva ciò che desideri è già tuo è già fatto e preparato basta avere pazienza e arriverà prestissimo digita amen per attivarlo benedizioni 1111 gli angeli dicono che dio dice che darà un messaggio da los angeles la tua vita fiorirà meravigliosamente per mia grazia e sarai condotto alla tua crescita ottimistica oggi dio vuole metterti in guardia contro una persona che parla alle tue spalle se credi in dio sto iniettando forza ed energia nel tuo corpo mente e spirito sto cambiando le cose al tuo fianco per portarti dove dovresti essere so esattamente dove ti trovi e ho un ottimo piano per te la tua vita è affidata alle mie mani ti darò doppia porzione di onori e di favori sto rispondendo a tutte le tue preghiere e ti porterò la liberazione dai tuoi problemi attaccamenti mondani dio ti sta dicendo oggi che qualcuno non può più stare lontano da te manchi a qualcuno in questo momento gli manca stare vicino a te vogliono solo tornare a casa e venire da te qualunque sia il lavoro o la situazione lasceranno tutto e verranno da te perché non c'è nessuno che possa capirli come fai a capirli dio dice che stai entrando in un nuovo inizio con te stesso dove crescerà l'amore la comprensione sarà nella tua relazione scrivi e credi buongiorno dio sono grato per il nuovo giorno sono grato per la tua compassione e misericordia grande è la tua fedeltà e il tuo amore indissolubile dio ti ha dato questo giorno riempimi del tuo spirito e dammi energia per il tuo lavoro dammi la forza di navigare oggi in pace provvederai a tutti i miei bisogni oggi per svolgere il lavoro che mi hai dato dichiaro la tua sovranità su ogni ambito della mia vita le tue enormi aspettative saranno presto ripagate con qualcosa che non avresti mai immaginato ci sono molte avventure belle e sorprendenti in serbo per te nella tua vita perché il tuo angelo ha cambiato il copione della tua vita scrivi e credi nei tuoi angeli non perdere tempo a pensare a cose che non sono sotto il tuo controllo preparati ad affrontare la situazione punto il modo in cui mostri entusiasmo in lui ci sarà qualche preoccupazione nel non ottenere i risultati risultati nel tuo lavoro ma si paziente col tempo andrà tutto bene ho una benedizione con sopra il tuo nome non arrenderti prima che arrivi la benedizione riposa stasera il tuo dio spezzerà tutte le maledizioni della tua vita domani sarà un nuovo giorno e dio ti darà tutto ricomincia e confida nella magia dell'inizio dio vuole aiutarti a creare un nuovo capitolo e a scrivere la tua meravigliosa storia oggi è l'inizio di ciò che desideri benedizioni inaspettate ti arrivano all'improvviso incontrerai la persona giusta all'improvviso la tua salute migliorerà è tempo per te di attrarre continuamente la prosperità di lasciare che le cose fluiscano dio sta cambiando la tua storia il denaro entrerà nel tuo conto come l'acqua del fiume e lui o lei saranno emotivamente e finanziariamente stabili afferma se stai attirando energia positiva e miracoli mentre leggi questo scrivi 444 caro universo sono pronto a ricevere ricchezza finanziaria e stabilità emotiva ciò che desideri è già tuo è già fatto e preparato basta avere pazienza e arriverà prestissimo digita amen per attivarlo benedizioni grazie a tutti 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 grazie a tutti